Che libro ci hai portato? Il Pinguino Verde Ok Da dove arriva questo libro? Chi te l'ha preso? Beh, non me l'hanno preso proprio a me perché era di mio fratello Visto che mio fratello non lo voleva più, quindi l'ha dato a me Tu sai già leggere, quanti anni hai? Sette Ma te lo leggi tu quindi? Alcune volte Alcune volte, ma quindi il bello del libro è leggere il libro o leggerlo con la mamma? Tutte e due Che cosa ti piace di questo libro? Cos'è che ti diverte di più? Perché le figure erano belle e come lo raccontava Come lo raccontava chi? La mamma